La distanza è quella del miglio, viene a mancare i rapporti di scuderia poiché il numero 5 Timbuktu B non corre quindi ne rimangono in 8 e rimane a difendere i colori dell'avvocato Granianello solo The King Griff e lui è il più gettonato, mezzo meccanica in movimento 8-2 anni dopo il forfetto di Timbuktu non c'è più rapporto di scuderia, miglio The King il favorito Arretrato Taba da Griff, prende velocità la macchina Emerge nettamente alla chiusura a largo di tutti Tarsiam e viene rientrato da Tanarò degli Dei con allargo veloce Trifone Gall Tre cavalli ci giocano i birilli, sta passando la leva di Minopoli e il lancio se ne va in 13.8 E così la Luis al comando rimane nasino al vento Il targato Gall Trifone Si completa la piegata e si completano anche i 400 iniziali Passati in 29.9 E insiste l'alivo di Ciccio De Cristoforo Ma Minopoli corre al comando e ne vengono fuori 600 molto solleciti per la categoria Sono due anni ma tutto sommato De Cristoforo sta passando 44.7.600 Il Trifone Leader Ora fila indiana in terza posizione Tanarò a precedere top dei model In coda è The King che ora cerca la risalita dopo lo stop del Leader 1.1.9 17.2 di frazione Si viaggia da 17.5 Trifone Gall Leader su Tarsia Mentre Dinardo Antonio con il suo Tobias Del Ronco anticipato The King Il chilometro se ne va in 17.3 15.4 di frazione Ma la Tarsia anticipa l'idea degli avversari Si presenta su Trifone e sta già passando facile Si inserisce anche Tanarò a numero 1 Il parziale in 14.7.1.32 I tre quarti di miglio A largo è Tobias Si inserisce The King Griff Molto vicini tutti o quasi Con la Tarsia al comando Insiste Tobias E Tobias va su Tarsia Lotta tra i due Insiste Tobias Tarsia ancora in leggero vantaggio Tanarò a di dentro Zona traguardo Tony, 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 Tony Tony Young Al doppio di ciotola Come training Secondo Tarsia E uno Terzo Tanarò a degli dei Due due e nove Uno sedici e otto Ennesimo Love You Niente male Teresa Cavallo La proprietà Vitale ciotola Come Training Ma in salchi Antonio Di Nardo Come al solito Preciso Impeccabile E predominante Quota il totalizzatore Di 4,47 Corre alla grande La Tarsia Luis Veramente Gli è venuta male Non male Tanarò Che sarà buona Per la prossima I numeri sono 3 Sei